Bene, 11.05, direi che abbiamo dato 5 minuti canonici di tempo, adesso possiamo cominciare. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti al primo webinar italiano dedicato all'Asset Investment Planning, dal titolo Il valore al centro di ogni decisione aziendale. Benvenuti anche all'ultimo paio di persone che si sono collegate, abbiamo veramente appena iniziato, ho appena dato il benvenuto a tutti. Una piccola nota, siccome ci sono stati diversi iscritti che ci hanno chiesto di poter registrare la sessione, la sessione sarà registrata per poter essere vista e messa a disposizione di chi non ha potuto partecipare. Andiamo per ordine, innanzitutto mi presento, sono Cristiano Martinci, sono il Regional Director per il Sud Europa di Copperleaf. Con me oggi c'è collegata Martina Carli, che è una delle nostre solution expert direttamente da Vancouver. Prima di entrare nel dettaglio di quello che è il tema della giornata, volevamo spendere solo due parole per raccontarvi brevemente chi è Copperleaf, l'azienda che rappresentiamo. Copperleaf è un'azienda canadese che è stata fondata nel 2004, quindi che ha quasi 20 anni di esperienza, nel corso del 2021 è stata quotata alla Borsa di Toronto, ed è un'azienda 100% focalizzata ad offrire soluzioni software di asset investment planning, quindi per il mondo della gestione degli investimenti, e si muove all'interno di quello che è il settore software chiamato decision analytics, quindi è un'azienda che offre delle soluzioni che supportano le aziende nel prendere decisioni aziendali. All'interno dei nostri, diciamo, mercati di riferimento, tipicamente, storicamente, lavoriamo con tutto il mondo dell'energia, quindi generazione, distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, gas, lavoriamo parecchio con il mondo water, con il mondo dell'acqua, in generale con le grandi aziende di multiutility, negli ultimi anni ci siamo estesi poi anche al mondo transportation, quindi strade, ferrovie, metropolitane, il mondo chimico, il mondo farmaceutico. Diciamo che il fil rouge, quello che unisce queste diverse tipologie di clienti, è il fatto che abbiamo sempre a che fare con aziende cosiddette asset intensive, cioè con aziende che hanno numerosi asset sul territorio, che devono manutenere, gestire, sostituire, o comunque sulla quali devono investire. Oggi diciamo che abbiamo circa 3 trilioni di dollari di asset gestiti in tutto il mondo, come vedete abbiamo diversi clienti provenienti anche da diversi settori. Siccome oggi non parleremo di software, o quantomeno non sarà una presentazione dedicata al software, ma piuttosto a un modello e a un approccio nella presa delle decisioni aziendali, pensate a questa lista di clienti come una lista di aziende che ha già abbracciato questo tipo di approccio, quindi questo tipo di modo di prendere decisioni aziendali. Entrando un attimino nell'agenda, nel corso di questi 45 minuti circa che passeremo insieme, andremo prima a vedere quali sono le sfide principali che le aziende asset intensive oggi devono affrontare, cercheremo poi di fare uno scorso su quali sono le caratteristiche di un processo decisionale basato sul valore, andremo a vedere nel dettaglio alcuni case study, quindi cercheremo di essere molto pratici, molto concreti, cercheremo di capire come alcuni clienti hanno realizzato quello di cui vi parleremo, e alla fine lasceremo spazio per le domande e per provare a immaginare insieme a voi come calare questo processo all'interno delle vostre realtà aziendali. In realtà uno dei vantaggi appunto di fare un webinar è quello di poterlo rendere più interattivo possibile, quindi se ci fossero delle domande, dei dubbi o dei chiarimenti che sorgessero nel corso della presentazione, sentitevi liberi di alzare la mano, di intervenire, piuttosto che di usare il box per le domande, per fare qualsiasi domanda riteniate interessante, per capire meglio. Iniziamo il nostro percorso e partiamo dalle sfide, le sfide che devono affrontare chi deve prendere decisioni all'interno dell'azienda, o meglio, quali sono i problemi da risolvere. Diciamo che c'è un'ampia gamma di problemi che oggi chi deve prendere decisioni aziendali nel mondo degli asset deve tenere in considerazione, abbiamo provato a riassumere alcune. Principalmente una delle grosse mancanze oggi è l'assenza di correlazione tra investimenti e strategia, quindi molto spesso le aziende investono o prendono decisioni guardando a un orizzonte temporale che è breve, medio termine, ma senza linkare, senza collegare direttamente le decisioni che vengono prese a quella che è la strategia aziendale. Se pensiamo alla base asset, questo si traduce in una tendenza a reagire a quello che succede ai nostri asset. Molto spesso si prendono decisioni in seguito a un failure, in seguito a un problema. È difficile per l'azienda oggi avere una reale comprensione della propria esposizione al rischio, quindi si lavora molto in maniera reattiva. La pianificazione degli investimenti è molto spesso un processo ancora artigianale. Il modo in cui le richieste di investimento vengono collezionate all'interno dell'azienda è estremamente destrutturato. Noi di recente abbiamo fatto una gara con una grossa multinazionale spagnola, attiva nel mondo oil and gas e rinnovabili, che di fatto ha dichiarato di avere come primo obiettivo che avrebbe portato valore il fatto stesso di standardizzare il modo in cui le richieste di investimento vengono collezionate dall'azienda, perché già questo avrebbe risolto un grosso problema. Molto spesso poi ci sono delle pressioni interne ed esterne che fanno sì che le nostre aziende non prendano decisioni in maniera oggettiva, ma ci lasciano influenzare da pressioni che arrivano dal mercato, dai clienti, dagli stakeholder, piuttosto che da situazioni interne dove lavorando a silos molto spesso chi urla più forte ha accesso a una condizione preferenziale nella gestione dei budget. Tutto questo poi si traduce in una difficoltà nell'adattare e cambiare rapidamente i piani di investimento che al giorno d'oggi è un problema importante per la situazione mutevole in cui le aziende, in particolare le aziende dell'energia, si trovano a lavorare, pensiamo a tutti gli input esterni che hanno cambiato drasticamente gli scenari nel corso degli ultimi due anni, la pandemia, il covid, la guerra, l'aumento del costo dell'energia e si traduce poi in termini più generali nella incapacità di cambiare in maniera agile i piani e giustificare, quindi difendere i propri piani di fronte agli stakeholder. Stakeholder che ancora una volta possono essere interni, esterni, possono essere gli azionisti, quindi chiunque chieda conto alla mia azienda di come essa ha investito i propri soldi. Cerchiamo di capire come un modo, un modello, un approccio decisionale basato sul valore possa aiutarci a risolvere questi problemi. Prima di tutto però definiamolo, quindi capiamo che cos'è un processo decisionale basato sul valore. È un processo che di fatto si definisce per essere obiettivo, quindi basato sui dati, non legato a sensazioni o input non oggettivi, efficiente ed agile, quindi è al tempo stesso in grado di risolvere i problemi rapidamente, ma anche di cambiare le cose rapidamente e deve consentire lo sviluppo di un piano di capitale, quindi il nostro approccio è finalizzato a costruire un piano di investimenti che sia ad alto valore, quindi che tenga in considerazione il massimo valore ottenibile per la mia azienda, che sia difendibile, quindi spiegabile, che crei quella famosa correlazione tra gli obiettivi strategici e gli investimenti che sto facendo, e ultimo, ma non è importante, che sia consegnabile, che sia quindi eseguibile, che non sia una lista dei desideri, ma che sia qualcosa che tiene conto dei limiti, dei vincoli e di quelle che sono le caratteristiche peculiari della mia azienda. Piccola citazione dalla Harvard Business Review, il valore di un'azienda è dato dalla somma delle decisioni che prende ed esegue, quindi ancora una volta grossa attenzione non solo su le scelte che faccio, ma sul fatto che possono essere scelte realizzabili. Come abbiamo più volte detto, quello che faremo insieme è un piccolo viaggio e si passerà attraverso un processo fatto di step, che andremo a vedere adesso nel dettaglio. L'obiettivo finale è creare un piano, un piano di investimenti che abbia come obiettivo ottenere il maggior valore, soddisfare gli obiettivi strategici, ma venga costruito attraverso un processo che sia trasparente, difendibile e ripetibile. Quindi queste sono le caratteristiche che più volte vedremo nel corso della nostra presentazione. Partiamo dal primo punto, che è probabilmente quello fondamentale, che è quello di stabilire un quadro decisionale comune. La prima cosa da dover fare per poter confrontare tra di loro investimenti, progetti, anche estremamente diversi, è poterli guardare attraverso una lente che li renda paragonabili l'uno all'altro. Che cosa significa questo? Significa costruire un quadro di valore, quello che nel linguaggio di Copperleaf chiamiamo value framework, ovvero significa prendere i propri obiettivi strategici, una selezione definita di obiettivi strategici, e renderli misurabili. Il grosso vantaggio è quello di poter confrontare obiettivi che sono obiettivi a volte finanziari, quali la riduzione del CAPEX, degli OPEX, del TOTEX, con obiettivi che sono invece obiettivi di tipo non finanziario, l'aumento della sicurezza, il raggiungimento del net zero emission, l'aumento della customer satisfaction. Prendendo questi singoli obiettivi strategici e dandogli un numero, rendendoli misurabili, io sono in grado di poter confrontare realtà e grandezze completamente diverse tra di loro. Tutto questo, ovviamente, la buona notizia è che non deve essere fatto da zero, ma può essere fatto partendo da una serie di modelli che sono già presenti in letteratura. Quindi quello che possiamo fare è implementare, attraverso il nostro quadro di valore, degli studi, dei ragionamenti, delle best practice che sono già state studiate da chi di questo si occupa quotidianamente. I due modelli più frequenti che vengono utilizzati, che probabilmente alcuni di voi già conoscono, sono il modello CNAME, Common Network Asset Indices Methodology per il mondo elettrico, e il modello NOMS, Network Outward Measures per il mondo dei gas. Questi sono due, diciamo, due modelli presenti in letteratura. L'altro vantaggio è quello di poter sfruttare le best practice di chi, e abbiamo visto prima la lista abbastanza importante di clienti che hanno già implementato, chi ha già sviluppato un proprio modello di valore e lo mette a disposizione degli altri per definire quali sono le misure più corrette da prendere in considerazione per perseguire quell'obiettivo aziendale. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è sempre quello di correlare l'investimento, il progetto che stiamo facendo all'obiettivo strategico aziendale. Quello che capita molto spesso è che non si parte da zero, ma si parte appunto da un 60, 70, 80, 90% e si può adeguare questo framework di partenza alle proprie esigenze aziendali. L'obiettivo finale di questo percorso è definire ogni singolo investimento, ogni singolo progetto sulla base di un valore, valore che sarà la scala economica comune, sarà la misura che mi permetterà di confrontare tra di loro grandezze completamente diverse. Proprio perché questo è uno dei passaggi fondamentali della nostra del nostro percorso, passo la parola a Martina che ci racconta come uno dei nostri clienti di riferimento Anglia Water ha gestito questo tema del value framework. Grazie Cristiano. Allora, come diceva Cristiano, per dare un senso pratico al concetto di value framework vi mostro qui un esempio tratto da un nostro cliente Anglia Water, un'azienda nel Regno Unito che si occupa della gestione idrica. In questa immagine vediamo come Anglia Water si è in grado di confrontare un evento di inquinamento a un evento di perdita, a un evento che porta un rischio alla salute e la sicurezza ai dipendenti e così via. Qui si parla di rischi di grandezza di natura diversa e quindi ciò permette al nostro cliente di valutare categorie di investimento in aree diverse che tradizionalmente non erano in grado di confrontare. Come si fa a valutare quale valga di più tra il rischio di 5.000 litri di perdite d'acqua e il rispetto a una caviglia eslogata è difficile senza un value framework che permetta di comparare grandezze di natura diversa. Quindi questo value framework permette ad Anglia Water di esprimere tutti questi rischi e benefici in un linguaggio comune che poi è un valore monetario per l'organizzazione e quindi permette di prendere decisioni che siano basate sul valore. Se vediamo qui un dettaglio del quadro generale vediamo che Anglia Water organizza le proprie misure di valore sotto 6 obiettivi strategici come ci diceva Cristiano precedentemente questi obiettivi sono l'obiettivo ambientale sociale affidabilità finanziario sicurezza e intellettuale come funziona? Quando Anglia Water fa un investimento che va a ridurre l'inquinamento questo investimento va quindi a migliorare l'obiettivo ambientale che poi è allineato all'ambizione di Anglia Water di fornire prosperità ambientale e sociale alle loro regioni quindi nettamente correlato all'obiettivo strategico. Tutto quello che vediamo qua è a livello di conseguenze o di impatto quindi non vedremo un evento specifico come una tubatura rotta è la conseguenza di quella tubatura rotta che può causare la mancanza di acqua o delle perdite d'acqua lo stesso vale per un evento quale una pompa danneggiata quello che ci interessa quantificare è la conseguenza della non conformità o dell'inquinamento che questo può provocare. Vediamo qui anche che Anglia Water include anche i valori sociali in questo quadro cioè tutto ciò che i propri clienti ritengono sia importante e per il quale siano disposti a pagare per esempio la pressione dell'acqua nell'ambito domestico o l'estetica di certe infrastrutture oppure la riduzione dell'inquinamento acustico. Il vantaggio che Anglia Water trae da questo value framework è che è stato creato a livello aziendale con rappresentanti di tutte le aree di investimento ed è quindi credibile da parte di tutta l'organizzazione. Quando Copperleaf ha realizzato questo framework con Anglia Water ha coinvolto fino a 110 persone dei team del cliente per costruire i modelli. Questi team operativi quindi fanno fedele al framework perché è basato sui loro dati e sui loro numeri. Ti ripasso la parola Cristiano. Grazie Martina molto interessante l'escursus che abbiamo fatto su Anglia Water ritorniamo a un concetto generale di value framework che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che quello che dovremmo andare a costruire è un modello di valore che abbia chiari gli obiettivi strategici quindi punti agli obiettivi strategici e li renda misurabili come attraverso delle definizioni concordate cosa vuol dire il rischio per me qual è la soglia di misure di servizio quali sono gli ambiti finanziari capex, opex, totex se devo tenere in considerazione pescherà dal mio archivio di dati piuttosto che da questionari guidati per andare a costruire queste misure e quello che mi restituirà saranno delle precise misure di valore associate a ogni singolo obiettivo strategico in questo modo ogni attività ogni progetto ogni investimento sarà misurabile sulla base dell'impatto che avrà su queste singole misure di valore e mi genererà un valore complessivo questo significa poter confrontare come ci ha raccontato correttamente Martina progetti completamente diversi tra di loro su una scala comune e comparabile che è quella legata al valore questo passaggio è chiave è fondamentale ma mi permette di poter andare avanti nel mio processo rendendo confrontabili realtà diverse tra di loro potendo porre dei vincoli di ottimizzazione e ovviamente avendo sempre sotto controllo con una reportistica molto ampia quali sono le scelte base che ho fatto e quindi rendere tutti i miei piani altamente difendibili prossimo passaggio è valutare i progetti abbiamo fatto sì che i progetti siano confrontabili tra di loro dobbiamo andare a decidere quali progetti includere nel nostro piano di investimento ovvero quali progetti considerare come includibili nel nostro piano di investimento ancora una volta potremo andare a guardare alla nostra base asset quindi andare a definire quanto la nostra baseline deve essere garantita a livello di gestione del rischio sui miei asset già esistenti potrò andare a includere progetti che prevedono una crescita quindi un increase un'estensione della mia rete un'acquisizione di nuovo territorio di nuovi allacci un aumento del numero di clienti che devo fornire potrò andare a gestire in maniera differenziata con un peso dedicato alcuni investimenti che riguardano ad esempio la trasformazione strategica banalizzando un pochino potrò dire che ogni investimento che impatta sul mondo delle rinnovabili ha un peso più alto rispetto agli investimenti legati al mondo dell'energia tradizionale e potrò naturalmente andare a inserire e considerare anche tutti gli investimenti legati al mondo ESG quindi environmental social government ovvero investimenti che hanno impatto sul mondo ambientale sociale o normativo a questo punto definito quali sono i gruppi di investimenti o anche mettendo insieme tutti gli investimenti che voglio anche molto differenti tra di loro il prossimo passaggio sarà impostare vincoli e obiettivi ricordiamoci che il piano che vogliamo deve essere un piano realizzabile quindi andrò a definire quali progetti valutare andrò a inserire dei vincoli che molto spesso sono dei vincoli di costo di risorse piuttosto che dei vincoli di tempo e andrò a definire degli obiettivi nel senso che andrò a definire dei pesi diversi ai miei obiettivi strategici sulla base di qual è in quel momento l'obiettivo strategico più importante quindi ovviamente la definizione di obiettivo può essere diciamo inserita piuttosto che no perché se io voglio rimanere legato a tutti i miei obiettivi strategici e con lo stesso peso non andrò a intervenire sulla modifica del peso a questo punto prossimo passaggio è quello di ottimizzare mi manca una variabile per poter ottimizzare che è l'orizzonte temporale quindi dovrò andare a dire al sistema a che orizzonte temporale voglio ottimizzare si può partire da un orizzonte temporale molto basso il bilancio tipicamente si parla di due anni si può andare verso un piano di investimento che nel mondo anglosassone è definito dalla normativa cinque anni ma si può pensare anche a un'ottimizzazione a lunghissimo termine ad esempio i cent'anni per avere un'idea del ciclo di vita degli asset a questo punto una volta messi vicino e resi confrontabili gli investimenti tra di loro quello che il sistema andrà a costituirmi sarà un piano di investimenti ok quindi il sistema mi andrà a dire quali investimenti fare e quando quindi quali investimenti fare prima quali investimenti fare dopo e quali investimenti non fare proprio perché magari devo sottostare dei vincoli di tempo o di costo ovviamente ogni piano mi darà un valore quindi non solo il singolo investimento o il singolo progetto avrà un valore ma anche il piano quindi il piano cumulerà tutto il valore generato dai singoli investimenti che saranno inclusi nel piano passaggio successivo è ovviamente andare a confrontare i piani tra di loro quindi il sistema mi darà la possibilità di confrontare tra di loro diversi piani di investimento in questo caso ci sono tipicamente due estremi un estremo chiamato baseline dove io non vado a fare nessuna attività nessun investimento nessun progetto che mi darà semplicemente la visione di come la mia base asset degraderà nel tempo quindi come il valore dei miei asset scende e come il rischio di failure salirà nel tempo all'estremo opposto ci sarà un piano ottimale dove io non andrò a inserire vincoli nei vincoli di costo nei vincoli di tempo nei vincoli di risorse e ovviamente sarebbe la famosa lista dei desideri dove probabilmente tutti gli investimenti verranno fatti nei primi sei mesi o nel primo anno il valore crescerà a dismisura e poi tenderà a non calare mai in mezzo a questi due estremi ci sono tutti gli scenari reali che mi consentiranno ovviamente di fare quella che viene chiamata what if analysis ovvero che mi consentiranno di andare a definire che cosa succederebbe se che cosa succederebbe se aumentassi del 10% i miei capex come diminuerebbe il rischio cosa succederebbe se volessi raggiungere la net zero entro il prossimo anno come aumenterebbero i miei costi eccetera eccetera tra i loro ricordiamo ogni scenario è una proposta di piano di investimento e nella parte centrale vediamo qual è l'impatto tra i dei quattro diversi scenari su l'aumento del capex l'aumento degli opex la riduzione del rischio la gestione dell'emissione di CO2 e vedremo come diciamo diversi piani di investimento impattano in maniera diversa su queste tipologie di misure finito questo passaggio ovviamente l'abbiamo detto più volte il piano non deve essere fatto una volta per tutte ma deve essere ripetibile anche perché nella vita reale le cose cambiano ci dice a slide ci possono essere dei lavori che emergono ci possono essere delle modifiche nei processi ci può essere un asset che si rompe e non lo prevedevo possono essere dei ritardi perché magari un progetto va a durare due anni e ne dura cinque ci può essere il superamento dei costi dei cambi nel budget dei sopravanzi di base che mi consentono di eseguire dei lavori in più o degli investimenti in più tutto questo deve essere gestito attraverso una pianificazione che può essere rieseguita tutte le volte che voglio quindi il piano deve essere sì trasparente difendibile ma anche agile deve essere in grado di reagire rapidamente a dei cambi nelle condizioni dei cambi nei vincoli nei cambi degli obiettivi quindi io devo poter rielaborare il piano tutte le volte che voglio confrontandolo col piano precedente quindi avendo anche una visione di come cambiano le cose perché tutte queste informazioni fanno sì che agli occhi dei main stakeholder il modo in cui ho preso le decisioni è sempre chiaro difendibile spiegabile ed eseguibile con questo abbiamo finito un pochino la parte più generica e con l'aiuto di Martina entriamo nel dettaglio dei singoli use case che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione grazie Cristiano allora riprendiamo adesso il primo cliente di cui abbiamo imparato prima Anglion Water la nostra azienda del Regno Unito che si occupa della gestione delle risorse idriche in Inghilterra quello che vogliamo vedere adesso è come hanno fatto ad ottenere 50 milioni di sterline in vantaggio di produttività e l'approccio che vi mostrerò che è l'approccio che hanno adattato è anche rappresentativo di molti dei nostri clienti andiamo a vedere all'interno della loro organizzazione Anglion Water ha diversi investimenti candidati da selezionare questi possono essere progetti programmi o qualsiasi altro modo di investire per migliorare la propria attività tali investimenti provengono da due fonti principali abbiamo da un lato gli investimenti per il mantenimento del capitale quindi sia investimenti per assicurarsi di ottenere le massime prestazioni dal capitale esistente sia progetti emergenti non pianificati e poi dall'altro lato abbiamo progetti di espansione o di crescita che rispondono alle necessità aziendali per esempio progetti per l'adozione di nuove tecnologie come lo smart metering o per le connessioni per nuovi clienti che fanno crescere il business nel sistema Copperleaf Angle & Water crea tutti questi investimenti candidati e ne calcola il valore il valore comprende sia il rischio mitigato i benefici realizzati gli obiettivi di servizio e i costi dell'investimento i rischi benefici e gli obiettivi sono calcolati attraverso il value cremo che abbiamo visto precedentemente i costi vengono aggiunti tramite il modulo di cost estimation di Copperleaf facendo così Angle & Water è in grado di confrontare tutti gli investimenti sia gli investimenti sul mantenimento sia gli investimenti di espansione e di crescita una volta che hanno calcolato il valore Angle & Water può ottimizzare il proprio portafoglio di investimenti dopo aver fatto ciò creano il loro piano di investimento quindi il loro capital plan il piano di investimento riguarda fino ai prossimi cinque anni e identifica gli investimenti di maggior valore da eseguire ogni anno fatto ciò Angle & Water vuole aggiornare questo piano di investimento col passare del tempo vuole aggiungere informazioni in tempo reale per esempio durante il primo anno del capital plan succederà che alcuni progetti vengono rinviati alcuni vengono annullati alcuni risultano over budget oppure ci sono nuovi lavori di emergenza magari in risposta a certi eventi climatici inaspettati quindi Angle & Water fornisce questo feedback in tempo reale nella piattaforma Copperleaf e riottimizza il piano per riflettere tutti questi aggiornamenti quindi il piano è continuamente aggiornato e gestito in questo modo questo approccio ha reso possibile avere una visione olistica di come ogni progetto messo in discussione contribuisse agli obiettivi strategici aziendali gli ha permesso di massimizzare quindi il piano di investimenti nonché di dare una maggiore visibilità sul piano decisionale a tutti gli stakeholder coinvolti tra cui anche l'ente regolatorio quindi prendere in considerazione oltre ai costi anche i valori ambientali valori sociali normativi è più facile con un sistema di valutazione che quantifichi tutte queste misure di valore oltre a quantificare già le misure finanziarie adesso passiamo a parlare di un cliente in un settore diverso sia nel settore di trasporto di gas ad alta per espressione quindi si parla di National Gas Transmission anche qui il nostro cliente ha una rete di capitale molto vasta tra cui asset lineari quali 1200 km di gas d'otto settore diverso ma sfide stimili National Gas faceva affidamento su una serie di sistemi autonomi e fogli di calcolo che erano utilizzati a livello di silos quindi le decisioni venivano prese in modo in compartimenti stagni senza valutare l'impatto degli investimenti sul portafoglio la seconda sfida era l'interregolatore off-gem che imponeva a National Gas dei nuovi requisiti di reporting a livello normativo quindi cosa abbiamo fatto? Allora National Gas ha voluto instaurare un processo decisionale end-to-end integrato abbiamo fatto così primo gestione del portafoglio quindi abbiamo con il sistema Copperleaf abbiamo dato a National Gas una fonte unica per la gestione di questo portafoglio dal lato top-down Copperleaf permette a National Gas di creare i propri investimenti emergenti di espansione di crescita come abbiamo visto con Anglia Water e dal lato bottom-up moderazione del rischio per tutte le necessità invece di sostentamento i rischi sono calcolati sulla base dei singoli asset quindi modellando l'effetto di molteplici interventi sul capitale esplorando diverse strategie di intervento sugli asset stessi e determinando quando e quanto intervenire sull'asset specifico durante il suo ciclo di vita in base anche a fattori di degrado dell'asset stesso questo permette veramente di determinare il piano di maggior valore presi questi due National Gas utilizza Copperlist per creare un piano dinamico integrato che contenga queste due fonti di investimenti lo ottimizza come abbiamo visto prima utilizzando il value framework e tenendo conto dei vincoli quali vincoli di budget di consegna e di dipendenze e poi lo gestisce in tempo reale inserendo il feedback sull'esecuzione sul budget dei progetti e feedback su eventuali nuove necessità di emergenti riottimizza e ha un nuovo piano integrato quali sono stati i benefici National Gas ha visto una riduzione delle spese sul capitale del 4% che erano pari a 11 milioni di sterline all'anno gli ha permesso di standardizzare l'approccio su tutta l'azienda passando da un sistema in compartimenti stagni a una fonte unica di informazione e del valore abbiamo dato anche supporto della reportistica interna ed esterna come richiesto dal regolatore OVGEM e una visione unica sul piano tutte queste cose naturalmente hanno portato a una maggiore chiarezza e una maggiore fiducia sui piani di investimento da parte di tutti gli stakeholders interni nonché da parte dei partner esterni e del regolatore quindi grazie a Copperleaf National Gas ha risolto il loro problema principale che era la presa delle decisioni in compartimenti stagni come abbiamo visto all'inizio passando da una serie di fogli di calcolo autonomi a un processo che fosse unico standardizzato e garantito end to end a livello aziendale vediamo adesso l'esempio di un cliente che è attivo nella trasmissione di energia elettrica il gruppo Elia questo gruppo opera in Belgio e in Germania ed è uno dei principali operatori di sistemi di trasmissione in Europa la missione del gruppo Elia è di realizzare le emissioni climatiche del Green Deal europeo cioè di elettrificare la società in modo sostenibile a questo fine la sfida per Elia è di modernizzare la propria infrastruttura di rete sia onshore che offshore per integrare grandi volumi di generazione rinnovabile vediamo in questa immagine la complessità del network di cui il gruppo fa parte la challenge la sfida è proprio dover far fronte agli interessi di vari stakeholders su questo verticale da un lato dal lato generazione hanno i produttori di energie rinnovabili e dal lato distribuzione invece gli operatori nei sistemi di distribuzione locali i clienti industriali le comunità locali nonché i mercati europei quindi non soltanto i propri interessi aziendali di affidabilità sicurezza finanziari e così via come abbiamo visto con Aglion Water ma anche gli interessi di tutti questi fornitori di tutti questi partner sul verticale intero il value framework che Copperleaf ha messo a punto per questo gruppo gli ha permesso quindi di bilanciare tutti questi interessi di particolare interesse la collezione di modelli ESG Environment Social Governance che è stata creata per Elia gli ha permesso di far fronte alle sue ambizioni sia a livello sociale ambientale e allo stesso tempo a livello alle necessità dettate dalla sua posizione nel mezzo di questo vertical naturalmente se il network di cui il gruppo fa parte è così complesso ne deriva che lo siano anche i portafogli di investimenti da valutare e da scegliere ogni anno l'analisi end-to-end all'interno dell'unico sistema Copperleaf ha permesso al gruppo dopo aver selezionato gli investimenti candidati di pianificare eseguire e comunicare il piano in modo chiaro e trasparente ti passo la parola a Cristiano per i commenti finali sì grazie Martina prima di tutto spazio a qualsiasi domanda se ce ne fosse diciamo che se c'è qualcuno che vuole alzare la mano se no c'è il box di Q&A che potete utilizzare Andrea prego vai pure sì grazie io ho visto tutto tutte le varie fasi del diciamo del vostro flusso del vostro processo legato alla determinazione del valore ma in particolar modo alla alla costruzione dei criteri di scelta dell'investimento io credo sia corretto definirlo un po' così no? perché diciamo che la mia curiosità è proprio questa è quello di andare a determinare una una misura per poter stabilire dei criteri di scelta delle priorità di investimento cioè quello che brutalmente si chiama prioritarizzazione degli investimenti quindi ho visto la la costruzione in base a questa vostra presentazione ho visto la costruzione di quello che è il vostro flusso il vostro processo dietro a questo a tutto questo insieme di attività e di microprocessi che sono le raccolte dati l'archivio dati le le analisi dei vari fattori la la parametrizzazione dei dei vari pesi sul su che incidono nella valutazione delle dell'investimento e del valore ecco dietro tutto questo c'è un software o comunque ci sono dei software c'è un programma adesso non voglio banalizzare perché voi stessi nell'introduzione avete detto non parleremo di software però mi pare dire che dietro tutto c'è un software che fa parte del vostro lavoro ecco allora mi chiedo è ovvio che il software è la parte core che sta dietro tutto che guida tutto però e quindi non però ma quindi nel nell'andare ad approfondire le varie esperienze sia nei casi di studio riportati qui ma anche tutto il vostro quotidiano lavoro verso i vostri clienti è possibile personalizzare questo flusso questo processo e il software stesso perché io in alcuni aspetti mi ritrovo pienamente in altri dico non è applicabile altre valutazioni non le abbiamo a disposizione perché c'è anche quello da dire ci sono tanti aspetti che voi avete evidenziato che sono applicabili magari in ogni realtà e in ogni in ogni azienda e in ogni realtà e in ogni situazione però magari non ci sono a disposizione degli elementi dei dati e quindi e non si riesce in questo momento ad ottenerli quindi chiedevo fino a che punto è personalizzabile il vostro progetto il vostro processo e il vostro software allora non solo è possibile ma purtroppo ti dico purtroppo perché altrimenti sarebbe più facile è necessario personalizzarlo nel senso che il modo in cui le aziende prendono decisioni è qualcosa di dedicato alle singole aziende quindi come come dicevo all'inizio il grosso vantaggio è poter partire da dei modelli che esistono in letteratura poter partire dalle best practices di qualche cliente simile o che ha gestito problemi simili ma poi c'è sempre una necessità di customizzare tra virgolette o comunque di rendere compliant al 100% alle esigenze aziendali il value framework che poi al cuore tu hai inteso in maniera assolutamente corretta la generazione del modello è quello che ti permette di dare un valore a ogni singolo investimento e sulla base del valore di priorizzare come hai detto correttamente tu quindi il passaggio è fondamentale va fatto il grosso vantaggio è che si può fare si può ottenere un valore anche in assenza di dati strutturati cioè basta veramente una base dati minima per cominciare il percorso e cominciare ad ottenere subito del valore abbiamo fatto di recente una piccola demo dedicata per un prospect italiano di cui per questioni di privacy non farò il nome ma partendo veramente da un excel di quattro righe siamo riusciti a inserire nel sistema una proposta di investimento e di intervento che già mostrava del valore quindi assolutamente il passaggio va fatto il grosso vantaggio di questo tipo di soluzioni è che non sono richiesti dei dati strutturati per partire poi è ovvio che come in tutte le cose l'appetito va mangiando quindi quanto più si riesce a fornire i dati al sistema tanto più si va verso una accuratezza più alta però è un passaggio da fare e si può fare in maniera abbastanza tra virgolette soft grazie è chiaro e vi faccio proprio in chiusura una domanda banale che di solito si fa alla chiusura di ogni presentazione se è possibile avere questa vostra presentazione sì sì allora sì assolutamente nessun problema anzi magari Martina andiamo già con i next step certo nel senso che la cosa che ci piacerebbe fare poi se siamo stati in grado di generare quantomeno un po' di curiosità è lavorare insieme a voi per capire come possiamo eventualmente esservi utili il passaggio fondamentale che si fa con i prospect o i nuovi clienti è organizzare una discovery session quindi organizzare un incontro dove noi di Copperleaf parliamo poco ascoltiamo molto voi ci raccontate come vengono normalmente gestiti questi processi quindi processi di gestione di investimenti o di interventi sugli asset si 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 descrive la situazione as is si cerca di capire se ci sono dei punti deboli o dei punti di miglioramento e partendo da lì poi tipicamente costruiamo una piccola demo a voi dedicata che parte da le esperienze di aziende simili piuttosto che le esperienze di aziende che hanno avuto problemi simili quindi ci piacerebbe insomma lasciarvi con questo input sicuramente vi manderemo la presentazione ma se fosse possibile insomma vedersi sentirsi per ragionare insieme a quattro mani su questa cosa sarebbe il passaggio naturale che ci piacerebbe fare insieme a voi non è chiaro io l'ho detto perché questo è il primo diciamo sono le prime informazioni che mi porto a casa ecco chiarissimo 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 se non ci sono altre domande allora aspetta ce n'è un'altra allora che impatti hanno questo tipo di progetti sulle risorse interne allora sì diciamo che il grosso vantaggio di questo tipo di soluzioni è che i progetti di asset investment planning possono lavorare anzi tipicamente partono come progetti stand alone quindi al netto dello sforzo che va fatto insieme a voi per definire il modello la soluzione può lavorare in maniera non integrata quindi può essere uno strumento che viene utilizzato caricando dei dati batch ma senza delle forti integrazioni anche a livello di infrastruttura o di architettura aziendale quindi l'impatto che c'è internamente sulle risorse dei prospect e dei clienti è abbastanza basso proprio per questo motivo poi ovviamente si può arrivare a un'integrazione come abbiamo visto prima man mano che i dati crescono ma il punto di partenza è decisamente molto molto light io se non ci sono altre domande se c'è qualcun altro prego ciao una cosa che non mi è chiara è quanto dura il viaggio inizia il tuo viaggio ma quanto dura forse mi è sfuggito ma quantomeno le fasi iniziali del viaggio no? perché è quello dove uno fa affidamento e poi dice ok capito la domanda scusa e seconda parte della domanda è a che livello aziendale fate riferimento? cioè al top manager al CEO a livelli un po' più bassi come vi interfacciate con l'operatività dell'azienda? bene allora rispondo ad entrambi il viaggio il viaggio ovviamente può durare allora noi abbiamo ci vantiamo di avere il 100% di retention dei nostri clienti proprio perché i viaggi partono e fino ad oggi ci sono alcuni clienti che sono in viaggio ancora da 20 anni diciamo che i tempi se interpreto bene la domanda i tempi medi per realizzare un progetto di questo genere variano tra i 4 e i 6 mesi ok quindi il tempo necessario per mettere in piedi una soluzione di questo genere sta intorno ai 4 o 6 mesi poi dipende sempre dalla complessità della soluzione il grosso vantaggio è che la parte invece di discovery e di demo può essere eseguita e realizzata molto rapidamente perché diciamo che essendo 100% focalizzati su questi temi li maneggiamo molto bene quindi molto spesso ci troviamo a parlare la stessa lingua di chi tratta questi temi all'interno dell'azienda e in maniera rapida siamo in grado di indirizzare una soluzione venendo alla domanda su chi sono gli interlocutori allora molto spesso abbiamo a che fare con persone che rispondono al top management quindi non col top management direttamente anche se molto spesso parliamo con figure che rispondono al CFO diciamo che internamente all'interno dell'azienda o chi si occupa di asset management asset risk management o chi si occupa di capital planning e capital investment questi sono un pochino i due dipartimenti in base alla dimensione dell'azienda ci potrebbe essere la possibilità di parlare col CFO direttamente col COO direttamente nelle aziende più strutturate solitamente ci sono dei department dedicati a questo mondo che rispondono appunto o al CFO sulla parte di investimento o al COO sulla parte di asset management e asset risk management spero di aver risposto Tazio sì ciao Cristiano una domanda velocissima da parte mia per la realizzazione di queste iniziative hai detto una durata insomma media tra i 4 e i 6 mesi siete totalmente autonomi nel senso che Copperleaf agisce come anche fornitore di servizi o vi appoggiate anche a terze parti entrambi entrambi nel senso che ci sono dei progetti che abbiamo realizzato completamente da soli e altri dove invece lavoriamo con un sistema integrato che ci aiuta nella comprensione magari dei processi del cliente piuttosto che mette a disposizione delle persone per per svolgere alcune parti del progetto diciamo che noi siamo un software vendor e vogliamo lavorare da software vendor quindi la componente di system integration è tipicamente demandata a qualcun altro quindi la scelta preferenziale è lavorare insieme a un system integrator perché crediamo fermamente che a ognuno vada assegnato il suo ruolo è ovvio che ci sono delle realtà soprattutto in Nord America dove lavoriamo direttamente e quindi siamo ancora in grado di gestire entrambe le cose ti direi che facendo una statistica ormai nel 70-80% dei casi lavoriamo insieme un sistema integrator quantomeno se guardiamo a un orizzonte worldwide grazie mille chiaro grazie a voi direi che siamo perfettamente in tempo io vi ringrazio vi ringrazio l'attenzione se non ci sono altre domande ovviamente volevo solo aggiungere un ultimo un ultimo input questo è il primo webinar che facciamo come Copperleaf in italiano anche perché la presenza in Italia di Copperleaf risale all'anno scorso ci tenevo però a lasciarmi insomma con un input nel senso che io seguo personalmente diverse diverse nazioni in Europa e percepisco un pochino sia da italiano sia da responsabile di sud Europa di Copperleaf come in Italia vista l'assenza di una realtà istituzionale che gestisca tutte le componenti di asset management penso ad esempio all'instituto of asset management che esiste in Francia in Germania in UK molto spesso manca un pochino un senso di comunità tra chi tratta questo tipo di temi quindi parlo di gestione dell'asset management e del capital planning mi piacerebbe veramente al di fuori del rapporto cliente-fornitore provare a costruire questo tipo di community anche in Italia anche solo proprio per scambiare opinioni punti di vista problematiche perché è chiaro che può essere un valore per tutti trovare degli spunti e degli spazi di condivisione in questo senso io a giugno sarò a Roma all'evento Cired quindi Cired quindi se dovesse esserci qualcuno di voi presente all'evento mi mandi un messaggio anche solo veramente per bere un caffè al di fuori del rapporto cliente-fornitore Cenza c'è una domanda? scusa e volevo solo capire un attimo ritorno un po' indietro perché ho ascoltato e allora quindi diciamo che nel momento in cui uno intraprende questo percorso in qualche modo c'è una fase di ascolto per cui si cerca di focalizzare sulla realtà aziendale e dopodiché c'è un'analisi che c'è da parte vostra dietro c'è un adattamento di una componente software sto cercando di capire i passi e quindi è tutto corretto fino adesso e allora quindi c'è sicuramente l'adattamento di una componente software e il risultato finale di questo studio e di quanto verrà fatto che dura 4-6 mesi dovrebbe poi diciamo almeno come step iniziale perché da quello che ho capito può proseguire nel termine in termini di miglioramento dovrebbe portare quindi a rendere disponibile all'azienda un qualcosa che poi è utilizzabile dall'azienda in termini di strumenti e di risorse che va alimentato perché ovviamente ci saranno degli input che ti volta in volta verranno introdotti e che permette quindi di poter fare delle scelte in termini di investimento ovviamente in termini diciamo della realtà specifica dell'azienda stessa quindi come è stato detto all'inizio immagino che l'obiettivo sia quello poi di avere un output in relazione al quale un'azienda consapevolmente è in grado di fare delle scelte in termini di investimenti e diciamo è messa in questi termini è tutto corretto è tutto corretto è chiaro che l'obiettivo dell'output è avere anche la possibilità di confrontare come diverse scelte portino a diversi risultati in termini di valore quindi non è una cosa dogmatica per cui quello è il piano e quello va eseguito ma mi dà la possibilità di giocare sugli scenari e quindi comprendere mi dà la possibilità di alimentarlo e di avere una proiezione chiaramente temporale in termini di risultati percorrere non solo non solo di natura economica ma chiaramente dipende anche dalla specificità della realtà analizzata questo è un po' il discorso ok e per come è stato costruito diciamo che il risultato mi garantisce di essere figlio di una serie di decisioni che sono allineate nei miei obiettivi strategici aziendali il percorso che abbiamo fatto cioè tutto quanto è finalizzato a aumentare la consapevolezza interna ed esterna di come vengono prese le decisioni e quanto ogni singola decisione è effettivamente allineata alla mia strategia aziendale certo definire in qualche modo gli elementi di valore dell'azienda o di quel contesto specifico dell'azienda e capire dove l'azienda vuole arrivare quindi quelli che sono i traguardi e questi sono ovviamente elementi che solo l'azienda può fornire ma immagino e da parte vostra ci sia una guida iniziale io non dico quei siti ma insomma una sorta diciamo di come dire di domande di una struttura base per poter indagare che permette di avere le informazioni necessarie giusto? esattamente corretto esatto sì sì è quello che si fa nella discovery session ok grazie sei stata promossa Vincenza bravo mi fa piacere ho seguito ho seguito grazie 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 mi hai dato soddisfazione grazie a voi anzi bene con questo siamo veramente agli ultimi due minuti se c'è ancora qualsiasi altra domanda fatevi pure avanti altrimenti io vi ringrazio ancora e spero di di vedervi allora credo che la presentazione verrà messa a disposizione adesso o meglio scusate sicuramente la presentazione vi verrà inviata credo che verrà messa a disposizione anche la registrazione adesso cercherò di capire con il nostro marketing in ogni caso sicuramente ci faremo ci faremo sentire quindi spero che ci sia l'occasione di incontrarsi di nuovo vi ringrazio ancora e vi auguro buona giornata un saluto anche da parte di Martino grazie grazie a tutti buona giornata ciao grazie buona giornata